Senti la vetta, no? Che cassa di risonanza, qua sto a 150 metri di distanza, da dove c'è la musica. Poco sbomba, no? Dove se sta lungo via l'edito degli Abruzzo. Poco trappi, ma? Stanno pochi soldi. Qualche auto. Gli altri anni c'era un gran trappone. Questa gente dice, no, vanno piano eh. Possono porre controlli. Bravo, ecco come si viaggia. Piano, senza accedere nella velocità. Vedi? Lui sono tutti bravi a guidare. E se guidi tutti così non succede in incidenti. Vedi? Tutte le auto che vanno piano. Ecco qui, bravi. Stretti guidatori per pezzi. Questi vanno a 30 all'ora. Forse pure male. Ho un dato un po' trappone. Che? Ho capato in cerito questo tempo qua. Vediamo. Ecco, adesso si sente. Bravo. Lo si sente. Magna